La duchessa! Oh, non ci mancavate che voi? Cosa siete venute a fare qui? Beh, vengo perché ci vengo e perché non venendoci mi sarebbe venuto. Permettete? Potete rispondere con più garmo? Potreste domandare con più cognizione di causa, permettete? C'è qualcuno che riposa. Oh, no, 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 e la riposa, eh? E la riposa sugli allori! E l'altissima signora duchessa è forse un'altra. venuta per stendere su di lei le ali protettrici. Certo, certo. Sentite, o siete pazzo o quello che sarebbe più umiliante avete bevuto. Voi credete che io beva? Che cosa fa vostra figlia o signora? Mia figlia. Che cosa fa del mio onore? Cosa volete che ne faccia mia figlia del vostro onore? Ve lo dirò io. Me lo mette all'asta. Ciao Doro. Questo uomo finira pazzo sia compatibile. Pazzo, pazzo. Siete un visionario. Io visionario? Essa è qui e voi siete venuta qui per nasconderla, per trafugarla, per sottrarla alla mia giusta vendetta. Santa educazione di mia madre. Non volete convenire che essa è di là, nella vostra stanza? Ma chi? Giulia, mia moglie, con lui. Ma chi lui? Enrico di Riverbella. Ma con Enrico di Riverbella sono arrivata io. Non è vero. Osate darmi una mentita? Io oso tutto e passerò sul vostro corpo se necessario perché voi, volendo nascondere la sua vergogna, la dividete con lei. Invece inendo perduti niente. Sofia. Creatura nulla. Sotto tutti i riguardi. Con gli occhi per non vedere, con l'udito per non sentire, con la ragione per non pensare. Ma cosa siete voi? Che marito? L'educazione può arrivare all'eroismo, ma voi ne fate scempio della sofferenza umana. Avete fatto di vostra moglie una disperata, della vostra casa un inferno e di voi, di voi un ridicolo. Duchessa. Ridicolo. E di me, di me, una villana che è tutto dire. La duchessa d'Arrera non riceve nessuno. Fate uscire, felici. Duchessa! E voi uscite per primo!